Ciao a tutti, questo è un video risposta a Dino Tinelli. Come molti di voi già sapranno Tinelli è un sostenitore della teoria della terra piatta, anzi è il più noto in Italia a parlare di questo argomento. Mi ero già occupato di questo problema senza mai toccare da vicino gli aspetti più scientifici perché non sono un esperto, ma questa volta devo fare un'eccezione. Chi come me è cresciuto con i Simpson ricorderà l'episodio dove Bart Simpson chiama in Australia per verificare che il water girasse per davvero nel senso opposto rispetto al suo. Questo sarebbe causato dall'effetto Corioli. Ma il signor Tinelli dice che l'effetto Corioli non esiste, dice che dipende dalla forma del recipiente o da come si versa l'acqua. Effettivamente mi sono sorpreso quando ho scoperto che nei paesi che si trovano all'equatore. Quello che sembra un esperimento per dimostrare che l'acqua gira nei due versi nei due emisferi. È in realtà un gioco di prestigio per attirare i turisti. Quindi Tinelli per una volta non si è sbagliato completamente, infatti quella dello scarico dei lavandini è considerata una leggenda metropolitana. Ma non perché l'effetto Coriolis non esista ma perché le vasche o i lavandini sono troppo piccoli e l'effetto Coriolis è quasi ininfluente. Affinché l'effetto si manifesti sempre la vasca dovrebbe essere rotonda, circolare e soprattutto molto 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 più grande, non solo. L'acqua deve essere perfettamente immobile senza che nessuna vibrazione o movimento possa agitarla minimamente. Se non si rispettano queste condizioni l'esperimento può essere falsato. Quindi, caro signor Tinelli, non è che l'effetto Coriolis non esiste, esso è poco influente nei vortici degli scarichi di casa nostra. Al massimo Tinelli avrebbe mostrato che quella degli scarichi è una leggenda metropolitana, ma non che l'effetto Coriolis non esiste. Tendenzialmente gli scarichi dovrebbero girare nei due sensi nei rispettivi emisferi, ma è possibile che ciò non accada. Se avessi potuto vi avrei mostrato l'esperimento, ma non possiedo la strumentazione. Se voi invece potete, vi invito a farlo e di riferire i risultati al signor Tinelli. Per il momento è tutto, alla prossima!